buongiorno ragazzi allora bentornati in cortile allora riprendiamo il discorso sulla testata del 238 e vediamo una volta smontata e pulita allora intanto facciamo una panoramica dei pezzi smontati allora abbiamo quale 8 valvole 8 molle 8 molle esterne 8 molle interne piattelli superiori scodellini dentro su cui si appoggia la molla interna e alla fine piattelli inferiori che sono quelli che si vanno ad inserire nella base della testa proprio per fare in modo che la molle molle non possono andare a ruotare ea consumare l'alluminio la nostra molla il gruppo molla è composta in questa maniera allora base appoggio molla interna molla interna molla esterna naturalmente qui scorre lo stelo della valvola qua in mezzo poi piattello e all'interno i suoi due semi coni che sono questi qua che sono i particolari che uniti insieme vanno a fare prendere il dente della dello stelo della valvola e bloccare le molle contro la valvola allora vediamo la testa allora intanto come vedete già pulita non l'ho sabbiata è venuta perfetta perché prima lavata col gasolio e benzina mescolati insieme poi lavata nuova al mente con solvente all'interno del tanicone con solvente nitro e quindi ripulita perfettamente in ogni sua parte inclusi filetti poi successivamente passata alla spazzola rotante della mola allora qui c'è da fare una piccola precisazione se vi trovate nella condizione di avere in mano una testata bella come questa qua io sconsiglio sempre di fare la sabbiatura spesso si portano le teste in rettifica in rettifica fanno le sabbiature fanno la sabbiatura della testa quindi la ripuliscono sparandogli sopra del materiale abrasivo che sia microsfere di vetro microsfere di metallo qualunque altro tipo di materiale che serve proprio a ripulire le superfici delle testate io lo sconsiglio sempre in particolar modo perché perché la sabbiatura naturalmente per il processo che la costituisce viene sparata vengono sparate delle particelle di materiale abrasivo ad altissima velocità contro il materiale che noi dobbiamo pulire il problema di queste particelle che vengono si sparate come portano via lo sporco hanno anche tendenza ad andarsi a piantare ad infilare nelle nei vari interstizi e nelle varie cavità del 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 pezzo che si sta lavorando quindi che cosa succede succede che anche poi lavandolo soffiando eccetera eccetera non è detto che questo che queste particelle vengano via o almeno vengano via subito succede che si rimonta il motore queste particelle sono lì belle piantate a destra a sinistra quando si mette in moto il motore per dilattazione termica tutti i materiali hanno comunque un movimento molecolare questo movimento di dilattazione permette a queste particelle di staccarsi ed andarsene poi in giro per il motore è successo più di una volta di aprire dei motori non fatti da tanto tempo che erano stati sabbiati non puliti bene e parte dell'abrasivo era finito all'interno delle bronzine e si era praticamente macinato le bronzine quindi le bronzine di biella quindi la sabbiatura se potete evitarla evitatela sempre quando vi trovate delle testate belle come queste qua come questa qua boh dateci dentro perdete un pomeriggio perché qua per fare questo lavoro ci va comunque un pomeriggio perdete un pomeriggio e ripulite bene la testa soltanto col solvente in questo modo non avete il problema di aver mandato in giro o il dubbio di aver potuto mandare soprattutto nei condotti dell'olio e soprattutto nei basamenti perché finché si tratta della testa bene o male sai e se qualcosa che rimane piantato nei condotti tra la base d'appoggio delle guide valvole e la testa il motore lo aspira così come lo aspira poi lo butta fuori senza creare grandi danni ma se è roba che invece vi va a finire nei condotti dell'olio quindi che magari rimane piantata dentro i ritorni i ritorni dell'olio che potrebbero essere condotti tipo questi i ritorni dell'olio verso la coppa quella roba lì ti vi finisce poi direttamente dentro l'olio e dentro l'olio va a compromettervi le parti in rotazione allora la testa è stata pulita come vi ho detto ci sarà da andare a trapanare ed estrarre questo prigioniero che era spezzato dentro già da prima e come vedete tutta la superficie di appoggio dei collettori è regolare perché qui fa collettore di aspirazione scarico insieme quello di scarico in ghisa quello di aspirazione in alluminio e questo che è un condotto di scarico aveva il prigioniero spaccato e come vedete sfiatava ed è andato a mangiucchiarsi l'alluminio della testa però è una roba che si può sistemare tranquillamente andiamo a vedere le sedi cerchiamo di metterci in favore di luce le sedi valvole come vi ho detto sono perfettamente in piano rispetto alla camera di combustione sia quelle di aspirazione che quelle di scarico la loro parte interna come vedete è stata ripulita quindi non ci sono più quelle o propriose incrostazioni che c'erano all'inizio e per fare questo lavoro dovete munirvi di questi attrezzi qua avvitatore varie spazzole rotanti che andremo ad infilare dentro i condotti o che andare più in profondità questa spazzola per la parte esterna raschietto per andare a grattare via eventuali incrostazioni o le guarnizioni che si trovano sui laterali ripulire bene queste qua classiche avvitatore che faccio almeno mille giri e avanti a pulire questa parte qua non è necessario sistemarla bene perché tanto poi qua verrà spianata e a proposito di questo un'altra cosa ci dice che questo motore non era mai stato aperto quindi questo motore ha fatto tutta la sua vita e si è guastato perché poi non gli hanno fatto la catena di distribuzione questo dente qua che voi vedete circolare è il classico dente che hanno le testate mai rettificate questa è una testa mai rettificata non è mai stata portata in rettifica non è stata spianata quindi noi vediamo che c'è un doppio dente il primo dente e un secondo dente di solito quando la testa è stata fatta almeno una volta il primo dente è relativamente basso come il secondo vedete che ci sono due altezze diverse il primo dente è basso come il secondo questo dente qua essendo alto ci dà l'idea ci dà proprio la conferma che la testata non è mai stata spianata quindi se non è mai stata spianata significa che non è mai stata smontata quindi questo motore ha fatto tutta la sua vita poi ha spaccato la catena aveva anche la guarnizione a testa bruciata sul quarto cilindro tra il terzo e il quarto cilindro in questa posizione non si vede adesso non si vede più perché l'ho ripulito ma era bruciato qua e qua allora anche i condotti nella parte interna sono stati ripuliti guardate che belli lucidi belli in ordine e belli sistemati cavi filetti delle candele sono perfetti quindi niente da segnalare è tutto il resto della testa è in ordine quindi questa testa qua è pronta per andare in rettifica a far smerigliare le sede valvole che come vedete non sono neanche non so neanche brutte e qua se avessi tenuto se avessi tenuto conto di come di come erano montate le valvole appoggiandogli le valvole secondo me tenevano di nuovo era solo necessario dare dare una bella pulita e qui abbiamo le valvole questa qui una valvola di scarico una di quelle valvole che vi ricordate era terribilmente incrostata anche lei è stata ripulita perfettamente ed è pronta per essere ri accoppiata alla sede dopo averle rettificato la base di appoggio la sede di appoggio sul fungo all'interno della che va a appoggiare all'interno della sede come vedete la valvola non ha nessun tipo di movimento quindi significa che comunque nonostante tutto il motore ha sempre funzionato bene e scorre tranquillamente all'interno della sua sede della sua guida e quindi non ha impuntamenti significa che anche facendola girare mentre la si fa andare su e giù vedete che io la giro lei non si punta vuol dire che le valvole sono dritte diversamente se fossero storte arrivato a un certo punto si bloccherebbero all'interno della sede questa è una valvola di aspirazione anche lei ripulita e se fate caso adesso non so se si riesce ad inquadrare bene la valvola non ha denti di solito quando le valvole sono molto consumate o comunque i motori hanno girato male davvero qui c'è un dente dove c'è la parte più lucida e la valvola è proprio scavata e altrettanto nella sede c'è un incavo invece in questo caso vediamo il sia le valvole che le sedi sono in perfetto stato allora naturalmente ci sono due step di lavori allora si può fare un lavoro dove si sostituisce tutto sedi guide e valvole e si fa un lavorone della miseria si ricostruzione si rifà la testa come fosse perfettamente nuova oppure si fa una rettifica quindi un ricondizionamento della testata come in questo caso anche perché qua non si può andare a spendere 5000 euro di motore dove praticamente vengono ricostituiti tutti gli accoppiamenti tra sedi e valvole poi messi nuovi i paraoli che vanno a lavorare sullo stelo della valvola quando la valvole su lui lavora ed evita che l'olio possa trafilare tra la guida valvola che questa qua bassa e lo stelo della valvola che va su e giù facendo questo lavoro si ripristina perfettamente il funzionamento della testata senza andare ad impazzire è naturale che questo lavoro qua deve essere un lavoro che su che o vi fate voi quindi vi fate la preparazione della testa o andate in una rettifica che sia come dire sufficientemente onesta da farvi un lavoro naturalmente pagando un lavoro che vale la pena perché se fatto bene nessun problema la testa ritorna praticamente come nuova se invece fatto male cominciano ad esserci magari problemi di tenuta del in compressione dei cilindri proprio perché se le valvole non accoppiano bene alle proprie sedi quando le molle le tengono su c'è possibilità che trafili dal dei gas in compressione dai cilindri e di conseguenza uno dei cilindri può uno o più cilindri possono andare peggio degli altri boh allora siamo pronti per andare in rettifica adesso ci ragiona un momento vediamo se riusciamo a fare qualche video anche la e boh nient'altro da segnalare diciamo che siamo stati tutto sommato molto 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 fortunati perché ci troviamo praticamente una testa allo stato originale che vale assolutamente la pena rettificare non ricostruire da zero rettificare perché è una testa bellissima quindi non vale non serve fare un super mega lavoro anche perché si sa purtroppo i lavori sono sono legati anche al budget del di dei proprietari dei veicoli allora vi faccio adesso mi è venuto in mente ho infilato combinazione una valvola di scarico al posto di una valvola di aspirazione allora è questa qua è proprio il classico esempio se voi avete una valvola estremamente consumata è una sede già abbastanza logora l'effetto che si ottiene questa qui è una valvola accoppiata la sua sede questa è una valvola accoppiata la sua sede come vedete fa il dente la valvola leggermente sporge o in alcuni motori come ad esempio già l'altro il bialbero fiat la la valvola è quasi a filo della camera di combustione però non è mai dentro quando c'è un arretramento della sede o comunque un consumo eccessivo della valvola l'effetto è proprio questo la valvola se ne va dentro se ne va dentro quasi dentro la sede e lascia esposta la sede alla combustione in primo luogo in secondo luogo andando se ne è molto dentro la valvola non ha meno appoggio sulla sede quindi tiene di meno ma soprattutto la cosa più grave che comporta questo fattore qua è il fatto che la valvola andando se ne è più dentro offre meno appoggio la partita offre meno appoggio alla sede e quindi lo smaltimento del calore che la valvola può avere quando si chiude sulla sede perché la valvola discarico in particolar modo quando si surriscalda quando appoggia sulla sede cede parte del calore che le appartiene alla testata attraverso la sede se la mando dentro e la superficie con cui lei scambia calore con cui si appoggia è ridotta anche la valvola si surriscalda molto di più e quindi partono fenomeni di autoaccensione partono tutta una serie di cose oltre naturalmente al fatto che prima o poi quelle valvole si bruciano perché a furia di stare troppo calde perché non appoggiano bene non appoggiano sufficientemente non hanno abbastanza appoggio arrivano a surriscaldarsi ad un certo punto si bruciano si deformano e quel quello quei cilindri perdono compressione in più quei fenomeni li vanno poi a crettare a fare delle crepe sulla testa perché perché l'eccessivo calore non smaltito e si concentra in alcune zone e normalmente il punto dove si crea più danno è proprio tra le due valvole ok anche questo più o meno spero di avervelo spiegato in maniera abbastanza elementare niente con questa testa abbiamo finito almeno per quello che toccava fare me il resto ma in rettifica vi saluto vi ringrazio per essere stati a guardarmi per l'ennesima volta ci vediamo al prossimo video quando rimonteremo la testa ciao ragazzi alla prossima